Ben trovati con l'appuntamento settimanale di approfondimento politico di TVR Teleitalia 7 Gold. Questi i nostri titoli. Parco della Piana, sì ad un accordo di ratifica per la pianificazione. La festa dei giardini di agrumi di Bugiano. La coppa del consiglio alla ASD Box Mugello. Convegno, l'orrore della guerra, la convivenza è possibile. Nella recente seduta di aula di martedì scorso, 23 aprile, è stata approvata a maggioranza, con 19 voti favorevoli e 12 contrari, la delibera di ratifica dell'accordo di pianificazione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze per l'adeguamento del piano strutturale relativo al Parco Agricolo della Piana. L'atto prevede che la Regione sottoscriva accordi di pianificazione con i comuni che ricadano nell'ambito territoriale del Parco e consente al Comune di Firenze di perfezionare l'iter di formazione del piano strutturale. Con tale atto viene confermata l'intesa preliminare siglata nel febbraio dello scorso anno. Già la sottocommissione nazionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso tantissimi dubbi e perplessità sullo sviluppo dell'aeroporto proprio in funzione della sua contiguità con il parco e con le varie strutture di rete natura, ci sono gli stagni, c'è il lago e conseguentemente c'è una presenza di avifauna, cioè di uccelli molto rilevante. Più si insiste negli atti di pianificazione a parlare del parco e dello sviluppo del parco più è difficile la coesistenza con lo sviluppo dell'aeroporto e invece naturalmente ha non soltanto impatto sull'attività umane e quindi anche sullo sviluppo che c'è stato delle residenze, il nuovo polo universitario e altro, ma naturalmente un impatto ambientale notevole e il primo pericolo di ogni aeroporto è il bird strike, cioè la possibilità di collisione fra gli aerei e gli uccelli e conseguentemente l'abbiamo evidenziato oltre al ritardo con cui è arrivata questa ratifica perché di fatto il Comune di Firenze ha già votato il piano strutturale prima ancora che il Consiglio regionale ratificasse l'accordo con il Comune stesso e quindi ancora una volta il Consiglio regionale è stato messo in coda rispetto invece al ruolo che dovrebbe avere sulla pianificazione di un'area così strategica per la regione, tanto che il PIT a suo tempo aveva previsto proprio il parco della Piana come una delle invarianti strutturali della Piana. È la ratifica di un accordo che mette due punti fermi fondamentali per la regione che non pregiudicano affatto il futuro. Da un lato si fissa la dimensione del parco in 80 ettari, chiaramente questo non implica come siano disposti quegli 80 ettari, quindi in astratto non vi è nessuna incompatibilità con le progettualità future consentite al momento dal masterplan. Dall'altro lato invece, dato fondamentale per la regione, si prevede lo stralcio dell'ex inceneritore di San Donnino che non sarà un'area verde ma sarà un luogo per collocare un impianto di recupero come l'impianto che si propone di recupero dei RAI, dei rifiuti tecnologici che non ha impatto ambientale e costituisce uno snodo fondamentale della visione del piano dell'economia circolare della regione. Quindi a mio avviso un atto che è prima cosa fondamentale perché consente la piena efficacia del piano operativo del Comune di Firenze che era sospesa in attesa della ratifica che riafferma i principi fondamentali e la presenza fondamentale del parco nella visione della piana e che mette anche le basi per la conservazione di tutti gli equilibri futuri con le realizzazioni che lì avranno luogo e con la salvaguardia dei principi a cui teniamo tutti moltissimo, anche noi qui in regione. Quindi in realtà la discussione ha preso una piega che non aveva niente a che fare con questo atto ma che era più legata al dibattito complessivo politico, soprattutto cittadino, sulla visione futura sulla piana e sugli atti e sulle realizzazioni progettuali che avranno sede lì. Tutti sono favorevoli a questo aeroporto e a che funzioni meglio? Perché si dice e si vuole far capire che non ci sia una contrapposizione con l'aeroporto di Pisa e conseguentemente devono essere in sinergia. È anche vero che parlando in maniera fuori dagli schemi il fiorentino che non trova nel proprio aeroporto lo sviluppo desiderato forse non va a Pisa ma va a Bologna. Per cui è bene che l'aeroporto di Firenze trovi uno sbocco. Poi è ovvio che nei giochi politici si massimalizza quello che è il danno per la zona della Piana che quindi inevitabilmente verrebbe sacrificata o comunque ci sarebbero tutti i rumori e quant'altro però è ovvio che l'aeroporto di Firenze debba avere uno sviluppo importante. Questo credo che in cuor suo ogni toscano lo ritenga importante. Torna la grande festa dei giardini di agrumi di Bugiano Castello, il caratteristico borgo in provincia di Pistoia. Un sistema museale di giardini privati che si apre al pubblico ogni due anni nelle settimane della fioritura. L'undicesima edizione della campagna Dentro Lemura è stata presentata nel Media Center Sassoli. Le due domeniche di apertura straordinaria il 28 aprile e il 5 maggio vedranno tornare la manifestazione al suo consueto svolgimento senza prenotazioni né visite guidate e con tre nuovi giardini privati aperti. Bugiano Castello è davvero un presidio medievale di bellezza assoluta che è possibile visitare scoprendolo nei suoi angoli più segreti e più nascosti perché con questa iniziativa è possibile visitare i giardini di scrigni ai quali i proprietari dedicano tanta passione e tanto impegno e vi assicuro sono angoli che rimangono nel cuore. Per cui l'invito è quello davvero ad essere presenti in massa in queste due giornate di visite perché questo consente è anche di conoscere forse una Toscana diversa, una Toscana che non è quella delle grandi città d'arte che comunque la rendono famosa nel mondo ma è quella appunto dei suoi gioielli più preziosi e più nascosti che la rendono unica, assolutamente unica. Per cui è un grande onore e un piacere per il Consiglio regionale ospitare questa iniziativa, la presentazione di questa iniziativa perché è il concetto, è la declinazione più efficace di quel concetto di Toscana diffusa al quale spesso anche il Presidente Gianni si rifà e che è la nostra caratteristica anche identitaria. Quindi una Toscana diversa, declinata in più forme e assolutamente ineguagliabile. È sicuramente una manifestazione importantissima anche perché nel luogo più bello, più caratteristico e poi è storicamente il capoluogo del Comune, il paese medievale per eccellenza credo della Valdinevole se non della provincia di Vistoia e quindi ritorno a questa manifestazione che ha avuto uno stoppo purtroppo dovuto al Covid e quest'anno grazie alla volontà e all'impegno soprattutto dell'Associazione Culturale, del Consiglio dell'Associazione e anche dei cittadini che danno una mano, diciamo riparte questa cosa che ha secondo me un prestigio che va ben oltre anche la regione Toscana se non in giro per l'Europa e quindi se il tempo facendo di scongiuri ci darà una mano, credo che sarà una cosa fantastica perché Bugiano davvero merita i giardini segreti di Bugiano, quindi la campagna dentro le mura è qualcosa che un po' è di particolare e quindi credo che chiunque verrà rimarrà stupito da cotanta bellezza. Grazie ai paesani di Bugiano Castello è possibile aprire e visitare 16 giardini privati, normalmente appunto chiusi al pubblico, nelle due domeniche del 28 aprile e del 5 maggio. Dove come potete vedere anche dalle foto c'è un trionfo di bellezze, di fiori ma soprattutto la fioritura degli agrumi che è la cosa che caratterizza tutti i giardini di Bugiano e l'intero paese. Una coppa alla ASD Box Mugello per il primo posto nazionale tra le società organizzatrici e per il prezioso contributo a tutto lo sport toscano. Con questa manifestazione è stato consegnato lunedì 22 aprile scorso nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso a Firenze il riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana. È una grandissima soddisfazione che ci ripaga di un impegno ormai più che quarantennale ma che in particolare l'anno scorso ci ha visti protagonisti nell'organizzazione di eventi pugilistici che appunto ci ha portato ad essere la prima società in Italia nella speciale classifica della Federazione Pugilistica Italiana e appunto ci ripaga di tantissimi sacrifici tenuto conto che l'anno scorso abbiamo organizzato 24 manifestazioni in un anno quindi una media di una ogni 15 giorni che hanno comportato un grossissimo sforzo non solo economico ma anche soprattutto umano e psicologico perché comunque la società è piccola però ciò nonostante siamo riusciti a tenere il passo delle grandi società delle metropoli italiane. La società nostra è stata fondata nel 1982, è sempre stata fra i primi posti in Italia e quest'anno addirittura ci siamo classificati primi nell'organizzazione. Tanta roba perché aveva organizzato 24 manifestazioni nell'anno precedente questo riconoscimento penso più che meritato. Ci aspettiamo dal territorio del Mugello e del Borgo San Lorenzo una soddisfazione in più come viene riconosciuta qui in questa sala perché ci sono dei problemi da risolvere quindi io mi auguro che il buon senso regni. E adesso parliamo del convegno l'orrore della guerra. La convivenza è possibile. I dati dell'UNICEF presentati in questo convegno. Terza e ultima iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e Donne Insieme per la Pace a Firenze. Questo convegno, appunto vi ripeto il titolo, la convivenza è possibile, che è organizzato dalla Commissione regionale per le pari opportunità e donne insieme per Firenze, è di fatto l'ultimo dei tre incontri del ciclo, l'orrore della guerra, la Costituzione della pace. Secondo i dati, come vi dicevo, presentati da UNICEF, alla data del 25 marzo 2024 il conflitto in Israele, il conflitto israelo-palestinese in corso ha fatto registrare, pensate, 13.750 bambini uccisi, 11.874 feriti, 1.750 dispersi, oltre a un migliaio quelli che hanno subito un'amputazione e migliaia a quelli che hanno acquisito disabilità a causa di lesioni e traumi. Pertanto al centro di questa iniziativa che si è tenuta all'auditorium Spadolini, oltre al rapporto UNICEF, l'impegno di due associazioni di donne, una israeliana e l'altra palestinese, che operano nei territori interessati dal conflitto proprio con l'obiettivo del raggiungimento della pace e della convivenza. L'impegno è importante, bisogna considerare che le prime vittime della guerra sono le bambine e i bambini e le loro madri e è l'occasione che in maniera più drammatica stravolge i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Se poi andiamo a vedere i numeri, questi sono veramente inquietanti, perché ci dimentichiamo che le prime vittime, sia come morti che come malattie, che come mutilazioni, una mutilazione è qualcosa di terrificante in un bambino. Ebbene, chi soffre delle guerre è proprio l'infanzia, l'adolescenza e le madri. Questo è l'ultimo dei tre incontri che abbiamo fatto insieme a Donne Insieme per la Pace di Firenze, incontri in cui abbiamo parlato di guerra ma soprattutto di pace. Oggi raccontiamo cosa succede in particolare nel conflitto israelo-palestinese e cosa succede sulla striscia di casa, soprattutto raccontando le vicende di due associazioni di donne che da tempo collaborano per costruire la pace, che sono appunto un'associazione di donne israeliane e un'altra di donne palestinese. E poi racconteremo che cosa fa UNICEF in quei territori per tutelare i bambini. E qui si chiude il consueto appuntamento settimanale di TVR Teleitalia 7 Gold dedicato alla politica. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Grazie per aver guardato il video.